I love Trestina, dicono i segnali stradali della piccola grande città Umbra. A Trestina troviamo il Tevere, la chiesa e la mitica scuola Alberto Burri, i cui studenti hanno partecipato al concorso della SNAM Storie che raccontano il futuro. L'arrivo del kit della SNAM è servito per riprendere il discorso della biodiversità che le classi quinte della scuola primaria di Trestina avevano impostato già da alcuni anni. Questo kit ci è servito proprio per ripercorrere quelle tappe che avevamo realizzato attraverso i nostri laboratori di educazione ambientale. Qualcosa in più che questo kit della SNAM ha fornito è stata la presenza delle sei biostorie. Queste biostorie hanno permesso ai ragazzi di poter interpretare in maniera anche un pochino più creativa rispetto a quelli che sono i percorsi che abitualmente vengono svolti, argomenti quali appunto la biodiversità. SNAM ha offerto appunto uno stimolo al percorso che volevamo intraprendere attraverso appunto la lettura di queste biostorie che hanno permesso ai bambini un approccio a questo argomento da un punto di vista già un pochino più creativo, appunto più fantastico. Il kit è servito anche per partecipare ad un concorso, questo concorso prevedeva la realizzazione di cartelloni che rappresentassero alcune delle biostorie presenti nel kit. Le classi quinte hanno lavorato prevalentemente sulla storia e la bandiera di tutti i colori. Noi della classe quinta B abbiamo rappresentato la bandiera dei mille colori scegliendo ognuno il colore preferito da mettere dentro la bandiera. Questa bandiera forma di cuore rappresenta il nostro percorso scolastico e anche la biodiversità nel mondo. Mentre le classi terze hanno rielaborato la storia del rospo fosco. La storia del rospo fosco l'abbiamo scelta perché aveva quei crà molto carini, perché appena sono arrivati loro hanno fatto un crà preoccupato perché pensavano che portavano via ancora più piante, invece no. L'istituto comprensivo Burri che dirigo di Tressina è un istituto molto attento da qualche anno all'educazione ambientale. Questo è dovuto grazie al fatto che negli ultimi anni alcuni docenti si sono formati riguardo a queste tematiche e quindi anche la cultura dei nostri alunni, l'educazione e la formazione ha puntato proprio alle tematiche ambientali della biodiversità. Queste due storie si calavano perfettamente, come dicevo prima, su quello che è il nostro percorso. Infatti per i ragazzi delle terze è stato un po' un input per iniziare il lavoro proprio sul concetto di biodiversità, di ecosistema, di catena alimentare. Mentre per le classi quinte la bandiera di tutti i colori è servita un attimino per allargare il concetto della biodiversità, non solo a livello scientifico ma anche una biodiversità a livello di specie umane. Grazie a tutti!